il 2022 è stato un anno ricco di eventi di iniziative qual è il bilancio dell'anno appena trascorso beh è stato un anno assolutamente positivo sia in termini di eventi ma soprattutto anche in termini di soci l'automobile club per la prima volta nella sua storia è entrato tra i primi dieci automobil club d'italia quindi sicuramente questo ci dà ulteriore prestigio in vista soprattutto del 2023 che ci vede assolutamente protagonisti in quanto festeggeremo il centenario dell'automobile club verona e per festeggiare degnamente questo compleanno abbiamo in programma una serie di eventi celebrativi oltre ad eventi che normalmente realizziamo ma che abbiamo volutamente riportato a verona quale la mille miglia il passaggio della mille miglia e soprattutto c'era un evento a fine anno proprio nel giorno del compleanno quindi il 19 novembre che servirà proprio per celebrare a tutti gli effetti con autorità ai cittadini il nostro centenario insomma ecco quest'anno avremo addirittura 14 eventi che spaziano da quelli sportivi a eventi mondani a eventi educazione e sicurezza stradale e quindi ci sarà un bel da fare per questo 2023 tutti i tre a 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